Andiamo, l'umache! L'aria picnic è da quella parte! Non ti dimenticare che hai detto che dopo andremo a prendere uno yogurt e gelato! Altro anti-zanzare per orso bianco! Ah, siamo arrivati! Che significa siamo arrivati? Dove sono i tavoli da picnic e le panchine? Grazie per averlo chiesto perché... Sorpresa! Non faremo un picnic! E ci siamo completamente persi! Scherzi, ma che stai dicendo? Io sto morendo di fame! Orso bianco era preparato! No, non barare! Via! Niente più merendine confezionate! Vivremo nella natura e seguiremo le sue regole! Orso bianco detesta chi getta il cibo! Non lo offrirà più! Ah, non importa! Prendo il cellulare e chiamo... Oh, cosa? Eh?